Ehi tu, non sei stanco di una chitarra che fa solo le note? Mi sembra assolutamente non accettabile. Non sei stufo che quando premi i tasti escono gli accordi? La tua batteria suona sgonfia? Niente paura, da oggi c'è il Vasco Rossizer! Il Vasco Rossizer è il nuovo rivoluzionario pedale che trasforma ogni strumento nella voce di Vasco Rossi. Puoi regolare la quantità di E, il tremolo e perfino il riverbero. Mov! Incredibile! E cosa succede se lo proviamo sulla pianola? Per non parlare della batteria! Beh, insomma, non ci sono proprie parole per descrivere il Vasco Rossizer. Bisogna avercelo! Ordina subito al numero in sovra in pensione e riceverai in omaggio una bottiglia di whisky del Roxy Bar!